buonasera a tutti io registro che sera chissà voi quando vedrete questo video volevo informarvi del fatto che venerdì sera proseguiremo nella lettura della storia infinita con francesco ma saremo ospiti super speciali della locanda della tormenta quindi il quarto capitolo del racconto sarà in onda venerdì sera sul canale di excel vi lascerò il link da qualche parte su facebook sicuramente e su youtube perché questo mini video va anche su youtube quindi se volete proseguire nel nell'ascolto non mancate fateci compagnia anche lì buona serata buonanotte